Come state amiche e amici ben ritrovati, di nuovo buona giornata, vi ricordo come sempre di iscrivervi in questa zona, sul logo di Milanello, se siete dei cuori rossoneri, mettete un like e ovviamente commentate numerosissimi. Soffiata, importante, un giocatore che in questo momento sogna i colori rossoneri, in questo momento sta dando precedenza al Milan rispetto ad ogni proposta che sta ricevendo, un giocatore secondo me è forte anche da Milan. Arriviamo subito all'indiscrezione, alla notizia, però in questa rubrica Milanello risponde, parto con rispondere alle vostre domande che avete fatto in tantissimi sulla community. Parto da Nicola, esterno destro fondamentale, ma due che, contro di noi ha fatto benissimo del PSV, mix di fisico e qualità che in Italia gli potrebbero far fare la differenza. Già consigliato un paio di settimane fa, dice Nicola, beh, ha fatto un gran bene, chi non ha sognato di vederlo con la male del Milan durante quella partita si faccia avanti. Vediamo, il Milan però dopo quella partita ha proposto un'offerta, ha fatto un'offerta al Santos per Angelo Gabriel. Vediamo se si sviluppa qualcosa nel frattempo, comunque finalmente stiamo andando sull'esterno di destra e a me Madu Ke piacerebbe tanto, ma al momento, a parte un apprezzamento, durante quella partita non abbiamo delle notizie che vanno in quella direzione. Anche Davide mi chiede appunto di Madu Ke, mi è sembrato di vedere Roleo con più forza fisica sugli scontri di gioco e contrastico con un ottimo impiego anche in fase difensiva. Meno guizzo, ma sono d'accordo con te, mi piacerebbe tanto, può essere un nome papabile sicuramente. Matteo, questo mina attualmente, è meglio che si guardi dietro per salvaguardare il quarto posto, guardi avanti credendo allo scudetto? Io sinceramente, io ci credo, punto esclamativo, abbiamo il dovere di difendere fino all'ultima rigoccia di sudore questo scudetto. Io ci credo, dobbiamo vincere con la Roma, per dare ulteriore segnale, ulteriore pressione a Napoli, perché poi andiamo su una trasferta di Lecce che sulla carta è più facile, in quella partita ci saranno anche, in quel turno ci sarà la sfida tra Juve e Napoli, quindi io ci credo assolutamente e sono convinto che un posto in Champions lo prenderemo sicuramente, ma voglio lo scudetto. Considerato che sarebbe una periodo sulla destra, io fossi nella dirigenza, punterei forte su Madweke, in tantissimi ragazzi. La prossima stagione sarebbe fatti più la copiata Colomuani, Barra Wai o Madweke. Su Colomuani adesso inizia a costicchiare, andava preso prima. Su Wai ci sono dei dubbi sulla sua natura caratteriale, perché è un profilo un po' particolare. Poi, si è parlato delle condizioni fisiche di Rebic dopo l'ostituzione ad Eindhoven, perché non puntiamo un po' di più su Lattic? Io vi dico anche che domani dovrebbe tornare in gruppo Righi, quindi vediamo. Poi, cosa ne pensi di Adli come terzo di centrocampo e Vranx trequartista la Chessy? Su Adli nei due per Pioli non può giocare. Su Vranx io ho estrema voglia di vederlo di più in campo, o nei due o come trequartista. Ogni volta che scende in campo, scende in campo in parti delicate di partita e secondo me fa sempre bene. Anche l'altro giorno ha difeso palla, ha dato un'ottima palla al bacio davanti alla porta, ha messo Sergino Dest. Da quantità, a me piace. Poi, bisogna prendere un portiere, dice Kevin, sai dirmi qualcosa sull'indiscrezione Mendy del Chelsea? È circolato dall'Inghilterra, ha trovato un rimbalzo in Italia, potrebbe essere soltanto con la formula del prestito. Al momento non mi sembra un nome caldo. Poi, poi, poi... Vediamo... Se dovessimo cedere le house sui 100-120 milioni, qual sarebbe il tuo mercato? Io non credo che cederemo le house. Io credo che le house rinnoverà, magari già la prossima settimana, perché ci sarà questo incontro, e resterà. Se dovessi spendere 100-120 milioni di euro, gli spenderei per ricomprarmi le house. No, insomma, non ci sto ancora ragionando perché non credo che ci sarà quella situazione. A gennaio servirebbe proprio un attaccante per superare l'assenza di orighi, Piontek potrebbe essere un'idea... No, direi di no. Piontek no. C'è molto di meglio. Se si riesce a liberare dell'ingaggio di Baccarioco, sarebbe comunque impossibile andare sin da gennaio su UAR. Direi che non credo. Il Milan destinerebbe eventualmente i soldi più ad alte priorità, che possono essere ancora portiere, oppure la punta. Supercoppa, Scudetto, Coppa Italia, Champions. Cosa mi dici? Io spero di vincerne almeno due. Almeno due su quattro. Supercoppa la voglio, la voglio assolutamente. È troppo importante. Poi su Angelo Santos Cesare non è facile perché il Santos chiede più soldi, vuole monetizzare al massimo e quindi serve un rilancio. Magari ecco una cessione di Baccarioco, cioè risparmio sull'ingaggio, potrebbe aiutare ad alzare l'offerta verso il Santos. Chi è il tuo preferito più fattibile come futuro numero 9? Vediamo, ci sono tanti profili dalla Ligan. Uai mi piace perché è giovane, perché sta facendo molto bene, però ci sono di mezzo anche diversi aspetti caratteriali che non convincono. Ce ne sono tanti. Colomuani mi è piaciuto molto al Mondiale. Ve la butto lì, ve la butto lì. Ebram io lo rilancerei volentieri al Milan. Credo che sarebbe perfetto per il Milan, anche se in questo momento ho poco appeal. Poi qualche domanda si ripete. Adesso vi racconto quello che ho raccolto. Pensi che sia fattibile vedere Samar Zizia al Milan, il grande rimpianto non averlo preso a 500.000 euro. Ma tutto è fattibile, però come dici tu è stato vicino in passato. Lui però fece una scelta di vita diversa e decise di non venire. Quindi temo che il treno sia passato. Ci sono concrete possibilità che Redbird trattenghi i propri talenti, ovvero rinnovi ben a serio Leao? Assolutamente sì. Non sono mai stati così vicini. Non sono mai stati così vicini al rinnovo. Joao Felix è stato offerto al Milan. C'era stato un discorso con Mendes che voleva portare via Leao e portare Joao Felix, ma è stato proprio una cosa molto primordiale. Non sarebbe meglio cambiare i preparatori con Shamani? Allora, dovrebbe arrivare un nuovo coordinatore, questo guru serbo della preparazione per cercare di migliorare un po' questi aspetti. Icardi con Leao e formazione 4-4-2? No, Icardi è un giocatore che il meglio lo ha abbondantemente dato. E poi è inutile illudersi, non hanno soldi, questi sono più poveri dei senza tetto di viaturati. Insomma, al di là del tuo paragone, io invece credo che misureremo in questo mese, in questi giorni, il progetto. Maldini, che è rimasto, non è rimasto tanto per, ha ricevuto rassicurazioni. In questo senso mi sembra di vedere che ha più voce in capitolo, o meglio più carta bianca, più facilità di muoversi rispetto prima sul tema rinnovi. Prima c'era 4,5, 4,5, 4,5. Ora già siamo arrivati a cifre superiori. L'ultima offerta a Rafa Leao, che il Milan confida possa essere quella che verrà accettata, è di 6,5 milioni, più 1,2, 1,3 di bonus. Quindi scavallato è anche, in maniera importante, quel tetto. Per il resto, sul mercato c'è attenzione anche ai parametri zero. Vi dicevo ieri di Indica, dell'Aintracht, che è sempre un po' nel mirino. E comunque io spero che possa essere fatto qualcosa di importante. Laddove per importante non si intende operazioni da 50-60 milioni. Detto che comunque, nell'ultima sessione, abbiamo speso 35 milioni per Decetelare. Ora, lasciamo stare che il rendimento di Decetelare oggi è deludente. Siamo tutti d'accordo. Anche se io confido in questo 2023 per vedere un bel giocatore, e mi sembra che la prima partita l'abbia fatta in maniera diversa rispetto a quelle precedenti. Però 35 milioni per un unico giocatore in Italia non lo si vede tutti i giorni. Stiamo alzando il livello. Piano piano, anche se vogliamo cifre sempre più importanti, non facciamo il passo più lungo della gamba. Non possiamo essere a livelli della Premier League, dove spendono e spandono così centinaia di milioni di euro ogni giorno, quasi. Però il livello si sta alzando. Vi dicevo che c'è attenzione ai parametri zero. Intanto Luca mi chiede un parere su Vasquez. Vasquez è tornato ieri. Oggi di fatto inizia a vivere la quotidianità di Minanello. È un portiere che è molto ambizioso, è molto interessante, ha delle qualità che devono essere lavorate, si può sicuramente crescere il suo livello. Io, perché no, spero che possa diventare magari il titolare in assenza di Mignan, che possa magari sostituire Tatarusano. Perché per me Tatarusano comunque è un portiere che limita un po' il Minan. Anche se magari non commette l'errore, la manovra, la fase difensiva, il reparto non è lo stesso quando c'è lui in campo. Lo vediamo anche con qualche nervosismo manifestato ogni tanto dai nostri in campo. E poi ancora, andrà a prendere Vlaovic alla Juventus. No, Vlaovic secondo me potrebbe davvero partire in estate, ma destinazione Premier League, con la Juve che sta ridimensionando e sta insomma andando incontro a una politica di risparmio. Noi siamo stati precursori, per fortuna o purtroppo dipende dai punti di vista. E poi attenzione alla soffiata, perché il Minan ovviamente è operativo, in questa fase siamo in una fase importante per gennaio, ma anche per l'estate. Tra tre settimane circa, abbondanti, i giocatori che hanno il contratto in scadenza in estate possono firmare gratis per un'altra squadra, senza dover rendere conto al proprio club. Ci sono diversi parametri zero importanti, uno è interessante, uno indica dell'Antract, che se non chiede la luna è un obiettivo del Minan. Ce ne sono diversi in diversi reparti, ci sono proposte, ma attenzione perché il Minan, al Minan era stato proposto un mese e mezzo fa, dalla Stella, l'agenzia con cui ha ottimi rapporti. In quel momento il giocatore non ci ha capito più nulla, Minan ha detto sì, ha detto è interessante, dobbiamo riparlarne. In questo momento lui sta ricevendo offerte per spostarsi già a gennaio, ma sta dando precedenza assoluta al Minan. sogna il Minan, vuole solo il Minan, e parliamo di Yussem Owar, che ha 24 anni, ne farà 25 il 30 giugno, proprio quando scadrà il suo contratto con il Lione, francese, alto 1,75, centrocampista, che quest'anno ha fatto 7 presenze e 1 gol, lo scorso anno il Ligan ha 36 presenze, 6 gol e 4 assist, 6 gol e 4 assist, non sono da buttare via, l'anno prima 30 presenze, 7 gol e 3 assist, non sono da buttare via affatto. Anche nel 18-19, 37 presenze, 7 gol e 8 assist, e uno che nel Lione, in 222 partite, ha fatto 41 gol e 35 assist. Prima giocava nella squadra B del Lione, dove poi ha giocato anche Calulu, profilo interessante, che ha esperienza anche in Champions League, diverse partite in Champions, sto contandole un po' ad occhio, più o meno una ventina, nonostante sia appena 24 anni, sia appena 24enne. Lui ha un'offerta importante dalla Spagna, che gli propone un quinquennale, da parte del Betis, ma al momento la sta rifiutando, perché vuole il Milan. C'è stato un abboccamento anche da parte della seconda squadra di Milano, ma lui in questo momento vuole il Milan. Il Milan lo accontenterà, lo scopriremo, credo, nelle prossime settimane, che saranno decisive. Se lui non si accasa altrove adesso, significa che c'è una mezza promessa, da parte magari del Milan stesso, che lui, ripeto, vorrebbe raggiungere l'anno prossimo, a parametro zero, con un ingaggio non elevato, decreto crescita, facilità il tutto, giocatore forte. Forte, che è qualitativo, per essere un centrocampista, ha un ottimo fatturato, realizzativo, offensivo, fa gol, fa assist, mezzala, può giocare in un centrocampo a tre, può giocare anche trequartista, può fare anche centrocampista nei due, molto d'utile, è uno qualitativo, che costruisce, fa gioco, è uno bello da vedere. A me piace tanto, vi confesso che, un mesetto fa, poi, feedback diretti dalla dirigenza, c'era freddezza, però credo, ipotizzo, immagino che se lui, in questo momento, sta ancora aspettando il Milan, quella poteva essere, una freddezza di circostanza, perché eravamo nel mezzo, nel mezzo della stagione, e non si voleva distrarre nessuno, o magari illudere, non era cosa fatta, evidentemente, non è cosa fatta oggi, però lui spera nel Milan, e le prossime settimane, credo che gennaio sarà decisivo, per capire il suo futuro. Yussem, O'ar, con cui il Milan ha un discorso aperto. Ci sarà la spunta verde, o ci sarà la X, e la Croce Rossa, lo scopriremo insieme, per quanto mi riguarda, sarebbe un grande sì. Commentate qui sotto numerosi, non è un nome che è tramontato, iscrivetevi in questa zona, attivate la campanella, assistete i cuori rossoneri, e ditemi che cosa ne pensate. A presto, un saluto, ci vediamo dopo.